Avete visto già subito l'attacco, 1.29 di ritardo, vuol dire a trentesima posizione l'esterno. Attenzione, meno male, che non tocca neanche le reti. È la prima caduta che vediamo oggi, pensavo di vederne di più. Due americane, eh? Esatto. Quando non sei a posto, tecnicamente, e ti inclini su questa neve, lo sci non ti ritorna sotto. Tutto è molto coraggioso qui l'esterno che parlava subito. Si è anche un po' buttata verso l'interno lei, eh? Ha perso i bastoni, però poi ha gestito l'uscita.